Nel mio ruolo di Mixer Lab, mettetevi i commenti che metto a fare il caffè. Oggi, primo ottobre, è la giornata mondiale del caffè. Un motivo in più per offrire il caffè ad un amico o a chi volete bene. Cos'è il caffè ragazzi? Il caffè non è nient'altro che sinonimo di convivialità e di condivisione. Infatti a noi napoletani per noi il caffè è sinonimo di lavoro, amicizia e famiglia. Allora, noi siamo persone che sono sempre state legate a quella che è la nostra tradizione. Infatti siamo legati molto alla nostra moda, ma comunque siamo esploratori. E ci piace comunque andare ad esaminare, a trovare nuove tipologie di istruzioni al caffè. O meglio, a provare delle alternative. Oggi, infatti, proveremo la nostra siphon, che è composta dalla nostra ampolla, dove abbiamo inserito semplicemente dell'acqua. e poi andremo a accendere il fuoco in modo che l'acqua vada in ebollizione e poi partiremo con la nostra estrazione. Sarà passata la nostra ampolla per il cambio di pressione, di calore, nella parte superiore. E cosa andremo a fare? Andremo inserire all'interno del caffè. Caffè. Quanti tipi che possiamo inserire all'interno del nostro caffè? Dai 25 ai 20 ai 25 grammi, in modo da poter, in questo caso, riuscire a fare due tazze. Ok? Che sono leggermente più grandi delle nostre classiche tazze da terciere. Una volta che l'acqua sarà passata all'ampolla, quindi, inseriamo il nostro caffè. Andremo a dare un migliore giro di spurre, in modo che l'infusione avvenga in modo omogeneo. Riponiamo di nuovo il nostro tappo, eliminiamo la fonte di calore e il cambio di pressione porterà il caffè a percolare verso il basso. E quindi sarà pronto il nostro caffè. Un attimo di attenzione e vedremo come. Ecco qui, il nostro caffè è quasi pronto. Pronto per essere condiviso con chi amiamo e con i nostri amici. Fatto sì che il caffè passi dal nostro filtro alla nostra ampolla, alzate leggermente il filtro, in modo da... Il nostro caffè è pronto. In questo caso, ragazzi, non necessiterà neanche di essere zuccherato. O meglio, sta al vostro palato, scegliere se viene un bel caffè. In ogni caso... Ecco poi il nostro caffè. Buona giornata mondiale al caffè.